Eroi o vigliacchi, il populismo anche mediatico in tempi di coronavirus non si pone e non pone mezze misure. C'è bisogno di notizie estreme, soluzioni estremi, volemose bene estremi, untori estremi, assassini estremi o salvatori estremi. Allora, la giornata di ieri. Alcuni giornalistici dicevano che al Caldarelli di Napoli c'erano 249 medici in malattia. In gran parte fanulloni, lo scrivevano proprio così. Per Walter Ricciardi, che è consulente per l'emergenza coronavirus del Ministero della Salute, come sempre nelle circostanze drammatiche emergono gli eroismi e le vigliaccherie dei singoli. Fortunatamente sono decisamente di più i primi. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, invece, sottolinea come questa non è una guerra, anzi, dice, questa è una guerra in cui molti soldati stanno combattendo in prima linea senza il metto, senza giubbe e anche senza armi, come se fosse tra l'altro un motivo di vanto. E invece sarebbe una questione da discutere. Questi sono i nostri eroi. Poi ci sono i vigliacchi, i traditori, quelli che scappano, questi vanno colpiti. A suo avviso chi adesso abbandona il campo di battaglia non va fatto il procedimento disciplinare ma va licenziato. Bene, questa era la notizia. Nel pomeriggio esce un'altra notizia su Il Mattino di Napoli. Sono in totale 33 e non 249 medici del Caldarelli in malattia su 739, di cui 16 nei dipartimenti esistenziali, 17 nel dipartimento di emergenza e accettazione, pronto soccorso che fronteggia anche il Covid-19. Di questi, 17, 4 sono affetti da patologie croniche, 4 sono positivi al tampone per il Covid-19, quindi in isolamento fiduciario secondo le prescrizioni del decreto legge della presidenza del Consiglio e gli altri 9 sono malati di Covid-19. Il manager del Caldarelli, Giuseppe Longo, smentisce con un video le accuse di assentismo dei medici. Ora, se ci pensate, però le tifoserie ormai si sono formate, sono ben divise. Da una parte c'è chi dice con vergogna che funziona sempre così, che a Napoli è così, che la sanità pubblica è così, eccetera. Dall'altra c'è chi dice che i medici magari si ammalano perché non sono protetti e che viene molto comodo affidare sempre la responsabilità ai medici. la verità però, in questo caso, se ci pensate, non sta nel mezzo. Con due notizie così, diametralmente diverse, qualcuno sta dicendo una cazzata, sta mentendo. Non esiste un mezzo a due notizie così. Eppure anche questo tempo, come quello precedente, ha bisogno di eroi e di colpevoli e ha bisogno di rinunciare, anche da lettore e da giornalista, ad ogni forma di complessità. Bisogna essere estremi in tutto, bisogna trovare la notizia che faccia rizzare i capelli. Eppure, se ci pensate, ci farebbe bene un po' di complessità, no? Buon giovedì. Ah, a proposito, sul buongiorno di ieri dell'ospedale di Legnano ha risposto Gallera. Dice che la vicenda dell'ospedale di Legnano, di cui abbiamo parlato ieri, sia una fake news. Ormai sta bene su tutto. E quindi che la testimonianza che ci è arrivata dal lavoratore dell'ospedale di Legnano sia probabilmente di alcuni vigliacchi, come li chiamerebbero loro. E che ci vorrebbe troppo tempo sistemarlo. Meglio fare un ospedale da zero, con Bertolaso, in zona fiera. E quei sono centinaia di foto di ospedali abbandonati, cioè incompleti e lasciati lì. E che quelli siano ospedali abbandonati o rimasti chiusi, eccetera, questa è un'evidenza, no? Assessore Gallera. Che siano diminuiti i posti letto, questa è un'evidenza, giusto? Sono fatti, Gallera. Ma anche questo, per starci nella risposta invece, era troppo complesso. Fake news è a posto così. Buon giovedì, davvero.